L'ex presidente della regione Sicilia, Salvatore Cuffaro, resta in carcere. Il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha rigettato la richiesta di affidamento ai servizi sociali. Cuffaro aveva incassato il parere favorevole della Procura Generale alla scarcerazione, a condizione che l'ex senatore svolgesse attività lavorative in un centro romano di assistenza ai non vedenti. I legali dell'ex governatore della regione Sicilia, invece, avevano proposto l'affidamento di Cuffaro alla missione Speranza e Carità di Palermo. Ricordiamo che Totò Cuffaro, detenuto al carcere Re Bibbia di Roma, sta scontando una condanna a 7 anni per favoreggiamento aggravato a Cosa Nostra.